Mamma mia, Fatima sembrava il nurcaief, brava, bravissima, allora, finché scherziamo scherziamo, Fatima è migliorata tantissima, però, certo, loro sono brave, tu sei ancora un po' uno scherzettino della natura, però sono brave, ma che brave per favore ragazzi, ma io ho quella marcia in più, no Fatima, quella si chiama marcia funebre, esatto, non è vero, non è vero, guarda Fatima che sono talmente brave che ognuna di loro potrebbe rappresentare un luogo di vacanza esclusivo, Ma anch'io, assolutamente sfida Vai con la sfida Signori, Maria Rosaria, la Bersiglia, brava, signori, Neike, Costa Azzurra, signori, Alessandra, Capri, signori, Daniela, Portofino, signori, Valentina, St. Morris, Signori, Fatima, Cortina, ma è Cortina da un pezzo, da un pezzo, mica da ora, grazie ragazzi, grazie mille, grazie mille, grazie ragazzi, siete state fantastiche, bravi, magari, oh, magari quest'estate ci vediamo a Sant'Rombè, ma dai Sant'Rombè, guardandovi bene, comunque anche voi due mi ricordate Portocervo, perché? Chiedetelo alle vostre mogli Ha fatto una battuta Miracolo Miracolo, Fatima ha fatto una battuta, Miracolo Fatima per questa battuta ti ringrazio a San Giovanni, protettore degli obesi E perché? Che questa battuta si è chiuso il stomaco Grazie 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 Più che a San Gennaro Sembra il divino te Grazie Mi